Partiamo dall'inizio, cioè da prima della partita, Presidente, perché oggi tanto pubblico, record, 4.000, forse anche di più presenze, soprattutto tante famiglie per questo spettacolo iniziale che ci ha regalato la nuova società. Sì, 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 in effetti sì, oggi è stata una giornata meravigliosa, una giornata dedicata alle famiglie, dedicata allo sport. Mi dispiace per i tanti teatini che sono rimasti fuori, perché purtroppo ci sono state tante richieste che non sono riusciti ad accedere al biglietto. Ci stiamo muovendo già da subito, in settimana, per aumentare altri 1.000 posti. Quindi si arriverà a 5.000? Sì, il nostro obiettivo è arrivare a 5.000 posti, perché comunque la città lo richiede. E torno a ripetere, ci sono stati tantissime persone che non sono riuscite ad entrare in campo, nonostante abbiamo sfruttato i posti degli ospiti, li abbiamo traslati alla nostra curva. Veniamo alla partita, è un inizio un po' timido da parte del Chieti, o forse è stato bravo l'avversario a giocare subito con un buon approccio, poi però nel secondo tempo sicuramente la formazione di Nero Verde meritava il 3 a 2. Sì, certamente è stata così, la tua lettura è esattamente precisa, purtroppo il ramarico di non averla vinta, perché in effetti il gioco che abbiamo espresso in campo è stato nettamente superiore. Però questo ci fa capire che le nostre avversarie sono tutte temibili e quindi non possiamo mai abbassare la guardia. Importante comunque aver fatto questo punto che ci tiene in alta la classifica. C'è stata una protesta, più di una protesta nel secondo tempo, su un presunto tocco con un braccio in piena area da parte di un giocatore molisano. Lei come l'ha vista? Noi abbiamo visto in gnoffo, in bestialito. Io non amo commentare gli arbitri nel modo più assoluto, anzi, per l'amor di Dio, massimo rispetto per loro. Credo che se fanno degli errori lo fanno sicuramente in buona fede. Il ramarico c'è perché potevamo mettere la palla dentro quando facevamo le azioni a nostro favore. Il portiere è stato molto bravo, il portiere avversario. Il portiere avversario è stato bravo, ma torno a ripetere, se questo è il gioco che facciamo sono tranquillo perché vuol dire che il Chieti andrà avanti sicuramente. L'ultima presidente tra sette giorni ancora qui all'Angelini per questo derby con il Teramo. Insomma, altro spettacolo e altro gran pubblico. Abbiamo tre settimane di seguito che giocheremo in casa perché poi dopo la prossima che abbiamo in casa abbiamo una trasferta infrasettimanale. Voglio annunciare che la giocheremo in orario serale, quindi alle 20.30 e poi riavremo di nuovo una partita in casa. Quindi saranno altre due settimane di festa dedicate alle famiglie. Se il tempo sarà sempre così, io penso che saranno giornate di festa veramente importanti, sicuramente con mille persone in più.